Quasi 50 milioni di ascolti, di stream su YouTube, di visualizzazioni per Shakira nel format Beads are Rap che sta praticamente spaccando tutto in ogni suo episodio ed è doveroso perché i grandi dissing al suo ex che è il calciatore Piquet. E insomma quello che voglio dire è che per carità è stilosissima la canzone Shakira io ho parlato più volte e non riuscirei a parlarne male nemmeno se volessi però volevo indurre a una riflessione gli ascoltatori intelligenti di questo monologato podcast perché lo sanno tutti che le persone che mettono il follow su Spotify, il segui sul monologato podcast sono le persone più intelligenti del pianeta riescono a capire che se andiamo a prendere il testo di questo brano che è ciò di cui meno male mi occupo che dissing è fondamentalmente? Che dissing è? Hai scambiato un Casio per un Rolex? Una Ferrari con una Twingo? Che dissing è insomma voglio dire? Cioè tutto bello? La canzone è meravigliosa nel senso è un esercizio di stile paccutissimo con lei che fa un macello o ha un'estensione vocale veramente veramente come posso descriverla con una parola? Non lo so non c'è perché oltre ad essere tecnicamente perfetta è sensuale e la conosciamo tutti poi perché insomma ognuno di noi in qualche modo ha avuto il suo periodo in cui Shakira ti passava davanti alla televisione la sentivi cantare quel tono ti entrava dentro e quindi è anche familiare E' un nome incredibile e nel featuring coi Black Eyed Peas quello The Girl Like Me una cosa del genere quella canzone lì per esempio raggiunge un livello tecnico lirico di flow che a me fa impazzire Ma in questo caso diciamo che insomma l'esercizio di stile è figo interessante però io non so per quale motivo nel vedere il video una seconda volta ho avuto un po' l'impressione di ridicolo Cioè comunque sei una persona che ha quasi 50 anni che sta a fare i dissing all'ex che non sono dissing emotivi sono dissing un po' sempliciotti Voglio dire in italiano una cosa del genere non la puoi fare ed essere credibile perché in italiano ti sputtani nel momento in cui dici certe cose così banali Mentre invece in spagnolo arrivi in tutto il mondo fai 50 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo praticamente Poi è chiaro che c'è il format c'è lei che è un nome grosso c'è il fatto diciamo del gossip e la gente sta là comunque no? Ed è tutto giusto però concedetemi di dirlo veramente è un testo ridicolo un dissing del cazzo per una canzone che è tolto il suo significato è una vera bomba